qui ci sono i tasti oh mio dio ragazzi finalmente è arrivato è arrivato il masturbatore e non a caso oggi sono vestito da sega i*****o ora però contestualizziamo un attimo questo pacco i doppi sensi in questo video si sprecheranno vi avviso ragazzi perchè altrimenti sembra che io abbia iniziato a vendere sex toys qui sul canale anche se per come va il mercato la tecnologia potrebbe avere un senso ma no non è questo il motivo amici qualche giorno fa su amazon c'è stata una super offerta un'offerta molto particolare mettiamola così che un po' per scherzare insieme a voi vi ho proposto nel mio canale telegram ufficiale tech best deals tra l'altro se già non ci sei entra c'è il linkato qui sotto in descrizione video un masturbatore in offerta a metà prezzo del 50% da 70 euro a 35 euro circa non si tratta ovviamente di un prodotto super tecnologico di qualcosa che io vi propongo sul mio canale youtube telegram quello che è ma data l'ironia dell'offerta il fatto che fosse un best buy anzi il prodotto più venduto della categoria non mi ricordo quale salute benessere tempo libero qualcosa di simile dopo avervelo proposto insomma amici ne avete acquistati un sacco l'avete comprati non ho più tenuto il conto ma circa una trentina in due giorni e ora siamo arrivati attorno ai 50 pezzi acquistati sfruttando quell'offerta che vi ho proposto in modo così ironico simpatico su telegram e dato che tanti di voi l'hanno acquistato mi sono detto ma sai che c'è quasi quasi lo compro pure io il masturbatore dai miei link e vediamo che c***o è no ragazzi non ce la posso fare marca avx o o avx o masturbatore automatico uomo 7 modalità telescopico espremere ma esprimere masturbator maschio realistica 3d vagina orale giocattolo e gemito voice stimolato sex toys per uomo nero perché c'è anche bianco telescopico spremere forte shock e divertimento tocca il punto più alto puoi raggiungere facilmente la cima è lungo 16 centimetri e mezzo tpe appena la siccità morbido e confortevole particelle 3d facile da rimuovere e pulito quindi è un waterproof e questa è un'ottima cosa abbiamo la batteria integrata con 90 minuti di utilizzo un'ora e mezza quindi 90 usi garantiti amici che altro c'è di simpatico da 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 leggere vabbè si si vede che è una pagina tradotta con qualche traduttore automatico perché le scritte i testi sono un po' li state leggendo anche voi tema climax con un pulsante uso e pulizia non immergere un masturbatore maschile in acqua non utilizzare questo prodotto durante la ricarica e beh direi è meglio usare una tazza per masturbazione lubrificata quando si utilizzano giocattoli sessuali ok questa è una parte interessante ragazzi le avvertenze attenzione caricare il prodotto si prega di pulirlo la custodia dopo ogni utilizzo beh direi di sì ha funzione di spinta e spremitura quindi il nostro pipino diventerà tipo una mucca meraviglioso si prega di lubrificare il pipino prima dell'utilizzo i nostri prodotti hanno superato severi controlli di qualità non voglio immaginare quali ragazzi vabbè comunque sembra un prodotto molto aspettate perché è ancora un best buy ragazzi guardate dove sta scritto qui in alto il più venduto in masturbatori a coppa manuali speriamo che youtube non mi butti giù il canale dopo questo video un prodotto che comunque ironia scherzi a parte sembrerebbe anche essere discretamente buono nella sua tipologia di prodotto comunque da apprezzare il fatto che arrivi in un pacco anonimo perché non si sa mai detto questo apriamo il pacco non so voi ragazzi ma io sono molto molto spaventato tra l'altro bello pesante questo pacco cosa mi tocca fare per voi ragazzi però ci facciamo una risata insieme prendete il video per quello che è ovviamente ed eccolo qui arriva in una bella confezione totalmente nera direi anche abbastanza anonima se non fosse per questo microfono stampato qui sopra c'è del cellophane che andiamo a rimuovere tra l'altro ragazzi se ancora non lo sapete amazon warehouse ora si chiama amazon seconda mano sembra fatto apposta made in china vabbè non che avessi dubbi però ci sono le certificazioni ci è dire che è arrivato il momento di vedere cosa si nasconde qui dentro ok ok un cavo di ricarica usb quanto è grosso sto coso ragazzi tiriamo oh mio dio c'è un tappo lo togliamo è venuto come è fatto beh è un coso totalmente nero con un tappo in cima pesa un mezzo chilo circa e c'è questa parte spugnosa ok è venuto fuori tutto perché penso che la parte interessante sia questo ragazzi e qui dentro lascio tutta la vostra immaginazione va il il nostro pipino quindi non ho mai usato uno però penso che sto coso vada dentro in qualche modo vada in questo c'è un manuale di istruzioni ok si può collegare anche al pc vabbè dice sostanzialmente di ficcarlo dentro comunque una volta ficcato dentro questo è il buco qui ci sono i tasti oh mio dio sta vibrando tantissimo sembra un martello pneumatico guardate dentro come si chiude ah aumenta anche la potenza ragazzi e poi c'è il simbolo di un fulmine qui sopra sinceramente un po' paura a premerlo questa è la modalità turbo ragazzi off on così capite bene cosa succede al suo interno c'è una sorta di pistone ragazzi facciamo i seri proviamoci che si muove a ritmo di samba cioè raga per farvi capire quanto è forte sto coso lo mettiamo sul tavolo in legno e lo accendiamo e questo non è ancora il turbo arriva eh e mai come in questo caso oserei dire che la tecnologia ci da una bella mano perché oh è un bel prodottino con la sua batteria integrata 90 minuti di autonomia diverse modalità di funzionamento la modalità turbo insomma che bel gioiellino chissà perché apple non fa qualcosa del genere ok amici l'ho fatto per voi me l'avete chiesto anzi no in realtà non me l'avete chiesto però era una cosa così simpatica da portare sul canale dopo questa offerta che non potevo tirarmi indietro amici questo è il masturbatore che in tanti avete acquistato dai miei link su telegram vi ringrazio vi auguro buon divertimento io non so cosa ne farò del mio sinceramente non penso di utilizzarlo forse farò un contest per regalarlo a qualcuno di voi fatemi sapere datemi qualche idea qui sotto nei commenti vabbè cos'altro posso dire ragazzi prendete il video per quello che è fatevi due risate che già la vita è amara quindi ridiamo quando possiamo spero che il video vi sia piaciuto amici vi aspetto nel mio canale telegram tech best days linkato qui sotto in descrizione ai video per sfruttare cogliere tante offerte di prima mano o seconda mano come questa trovate il link qui sotto se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel like per supportarmi condividetelo a tutti i vostri amici iscrivetevi se non l'avete già fatto siamo già in quasi 91mila grazie a tutti io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate sempre qui su Addictest2Tech da me e dal masturbatore è tutto alla prossima ciao ragazzi ciao